Ciao ragazze, quinto appuntamento con i trucchi più usati della settimana, come sempre in collaborazione con Fedi Kitty, che saluto, ciao cara. Oltre a Fedi Kitty voglio salutare innanzitutto The Glamour Coma, che è l'ideatrice di questa tipologia di video, Elisa, e lo realizza già da 12 settimane. Oltre a Glamour Coma saluto anche le altre ragazze che lo realizzano, Sisian Frenchy, The Gilmore Addicted, Map Life Makeup in 87, le prime ad averlo realizzato. E poi in seguito anche Beatrice, Lucia, la Miss Black Eyed e Manulla. Ciao ragazze, lascio tutti i link ai vostri canali giù nell'info box e vi saluto insomma. Adesso partiamo subito, anticipando solo che i prodotti utilizzati questa settimana non sono molti, in quanto è una settimana un po' frenetica, ci sono le feste natalizie alle porte e quindi non ho avuto un granché di tempo per truccarmi. Per quanto riguarda il viso, lo sapete, io sono monotematica ma posso permettermi solo due fondotinta, che sono la E-Coverge Mineral Foundation della Neve Cosmetics, quello minerale in polvere libera, e il Flat Perfection in forma compatta. Lo sapete, ho la colorazione Medium Neutral, questa settimana ho usato. Per quanto riguarda i blush, così terminiamo la parte del viso, mi sono accontentata di due contenuti nella Mega Palette di Sephora, alternandoli a seconda del make-up che realizzavo. Per cui questo qua rosa, scusate la luce pessima, oppure questo qua più sui toni rossi più caldi insomma. Per quanto riguarda gli occhi, come base ne ho utilizzate una sola, la mini size dell'Eye Shadow Primer Potion della Urban Decay, questa in particolare era contenuta nella Smoke Palette. I trucchi che ho realizzato, come dicevo, non sono molti. Allora, innanzitutto, proprio di trucchi un po' più sofisticati, ne ho realizzati due. Uno con la Naked One, nel quale praticamente ho utilizzato due colori come Toasted e Assol, per realizzare un make-up piuttosto sofisticato, appunto su questi toni di questo dorato e questo bel marrone shimmer. A questo make-up ho abbinato il lip gloss che vi ho già mostrato in altri video, sempre su tonalità calde del rosso, che era contenuto nella Naked 2 e che conoscete già. Tra l'altro ha la particolarità, almeno a me succede, di pizzicare un po' le labbra quando lo si applica. Così vi ho già mostrato anche il rossetto. Un altro trucco abbastanza complesso che ho realizzato, l'ho fatto con la Eye Candy della Sleek. In pratica cosa ho fatto? Ho dato, vabbè, la base con il truccol nero di pupa, che lo sapete è la matita da applicare nella rima interna, per cui è molto morbida e bella suoccio qua al volo. Ho delineato la codina e la piega dell'occhio, scusate, quindi l'angolo esterno e la piega dell'occhio. Ho sfumato la matita, ho applicato l'ombretto nero contenuto nella Eye Candy, per cui l'ho sfumato bene sopra. Dopodiché al centro della palpebra mobile ho applicato questo rosa qua, shimmer, e sull'arcata sopraccigliare questo bianco come illuminante. Adesso non ricordo i nomi precisi degli ombretti, comunque insomma, perché non ho più la velina protettiva. Abbinando sulle labbra un vecchio rossetto della Maybelline New York rosa perlato, che è questo qua che vi vado a sbocciare al volo, spero si veda, ed è il numero 283. Negli altri giorni o non mi sono truccata affatto, oppure sempre dalla Mega Palette di Sephora ho utilizzato qualche cialdina singola, in particolare questa, questa qua, che è la mia preferita. Vedete un bello azzurrino shimmer, un celestino shimmer, che io vado ad applicare su tutto l'occhio, eyeliner, mascara, e sono truccata, magari poi mi sbizzarrisco di più sulle labbra. Parlando di eyeliner e mascara, ho utilizzato come eyeliner solo lo Smart Liner di Sephora, mentre come mascara ho alternato questi due, li conoscete già, il Vamp e il Get Big Lashes di Essence. Un altro make-up per quanto riguarda le labbra che ho utilizzato questa settimana, è un make-up molto semplice, realizzato utilizzando semplicemente una matita per labbra della Libre Professional Make-up, come vedete è la numero 33. La Libre Professional Make-up è una marca di make-up professionale, che adesso sta aprendo alcuni store anche al pubblico, io ho trovato uno store aperto da poco nella città di Loano, una località turistica della riviera Ligure, la riviera dei Fiori, io vado spesso a Loano, mi piace molto, ho fatto un giro domenico, ho trovato questo store molto bello, con una commessa gentilissima, e praticamente ho acquistato due prodotti, questa Lip Pencil, che come dicevo è la numero 33, ed è questo bel rosa, come vedete perlato, è una matita morbidissima, che vedete si applica molto facilmente, per cui ho l'ho applicata su tutte le labbra, ho dato un po' di lip gloss ed ero truccata, in me che non si dica. Insieme alla matita ho acquistato anche uno smaltino, ci sono tantissimi colori e mi pare costino sui 4 euro, adesso non ricordo di preciso, ma non mi ricordo se 4,50 o 3, no, 4,50, comunque eventualmente nell'info box vi scrivo tutto. Avevo anche pubblicato delle foto su Instagram e sulla mia pagina Facebook di questi prodotti, proprio perché è una marca che io non conoscevo e mi ha impressionato favorevolmente, poi eventualmente ve ne parlerò meglio in seguito. Comunque sì, allo smaltino è il numero 118, il numero è questo qua, ed è questo bel blu metallizzato, glitterato, che una volta applicato sulle unghie è molto più chiaro, per cui è quasi un celeste metallizzato, molto bello, e poi in questo periodo di festa mi piace molto, però è molto, è durato bene, è durato bene almeno 3 giorni, ha una texture che rinforza l'unghia, e oltretutto nonostante sia glitterato, quando ve lo andate a rimuovere, si rimuove facilmente, per cui è uno smalto molto valido. Gli altri smalti che ho utilizzato questa settimana sono innanzitutto questi due pack che vi mostro, che sono il Shine Tech di Deborah numero 15, che come vedete è un color vinaccia, che si propone un po' come dupe del Roche Noir di Chanel, abbinato in accent nail a questo giallo della Rimmel London della linea 60 Seconds, il numero 401 Mellow Yellow. E poi ho utilizzato il rosso che mi vedete sulle unghie in questo momento, che è il numero 807 della Kiko, della linea Quick Dry, che sono andata a rispolverare in questo periodo di festa natalizia, perché secondo me è molto adatto appunto a questo periodo, per cui mi piace molto. Per cui ragazzi questo è tutto, non so quando pubblicherò il sesto appuntamento degli usati della settimana, in quanto la prossima settimana è Natale, per cui lo rimando a data da destinarsi, vedremo un po' come vanno le cose, e se vi fa piacere comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!